Ciao a tutti ragazzi Ok bentornati Benvenuti sul gioco Brawl Stars Non vedevo l'ora di farvi vedere il mio account Allora innanzitutto partiamo con i brawler Allora Colt E' il primo Berrim Rosa Drift Poi Nita E' Lola Poi O Bull Eugenio Jackie Bombardino Bombardino Stregona Supercell Poi Stecca Grom Jesse Brock Ash Pocho Dynalike E Shelly Ecco ragazzi Perchè ho messo Dynalike Ragazzi Perchè vorrei completare la missione di vinci 3 battaglie con Dynalike Quindi iniziamo Andiamo sul Boh Come va bene comunque Mi tornero K 3 battaglie Ok no Siamo messi male Vabbè c'ho Iris Va bene Allora Allora Vediamo Anche dai Anche loro eh Beh ciao Iris Io so dove sei Lo saprò sempre Che E' preso E' preso Oh Ma dai Vabbè A meno Che i miei amici ce la faranno Facciamo il pari Uno è eliminato Io Dai Si dai che stiamo vincendo Dov'è Iris? Eccolo Si Abbiamo vinto il round Perfetto Doveva vincere un altro Abbiamo vinto Allora Donna Mike Preso Allora 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 Che Boom Preso No Come sono morto Vabbè No no Dai Iris Ce la puoi fare Iris Ce la puoi fare Dai 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 Iris Iris Vabbò Abbiamo perso il round però Possiamo vincere ancora un round E E Mangiamo Boom baby Wow Quanto è forte Dino Mac Non me lo ricordavo Meglio metterlo in sopravvivenza Sapete Ma dai C'è E' sfiga questa Dai dai Da Dove Usch As Siaverma Si legge in è un ucraino russo vabbè non parliamo di questa cosa che un mio amico ucraino sta vivendo una cosa un po' brutta per un ucraino russo vabbè siamo qua per giocare a Brawl Stars dai Iris fatti valere vai vabbè dai contro M6 la distruggi dai bravo e vince vince dai è chiusa è chiusa è chiusa è chiusa si abbiamo vinto ragazzi non so cosa ho detto non chiedermelo ok una su tre vediamo nuova reazione yeah di nita andiamo con foot brawl dai che dobbiamo vincere ragazzi dai 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 ma dai mi sono ucciso da solo no 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 come vi siete permessi no non mi ha usato il gadget vabbè vabbè dai ma gromme dai eh vabbè abbiamo perso fai niente ragazzi io vado su sopravvivenza sono più sicuro non in due ok dai 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 ragazzi dai dai ok dai ok 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 ho trovata classa ragazzi ho trovata classa ragazzi boom no 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 vabbè la prossima volta c'entra meglio dai i messaggi mi arrivano dai 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 eccoci ragazzi ho trovato classa ho ucciso dai 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 che dobbiamo vincerla per portarci a casa quasi la missione dai dove siete piccolini beh ucciso facile ho detto l'ho detto no ma che cosa no ho sprecato la super per niente vabbè contro finale boom no boom 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 ok non è qua boom ok no dai 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 dove è voglio ucciderlo voglio ucciderti signor eh boh non so che bravo sarà lo scopriremo oh ma è proprio felice di qua eccolo qui il nostro bull amato è ucciso abbiamo vinto bella raga abbiamo vinto e adesso ultima battaglia con dynamite abbiamo fatto due missioni non una dai l'ultima vittoria così facciamo 400 gettoni e ci apriamo una casa nel brawl pass se c'è poi non so se c'è una casa non so ragazzi è secretese barrel dai 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 sì no c'ho poca vita io adesso la perdo vabbè l'ho ucciso comunque ragazzi e ci portiamo a casa la missione sì dai ragazzi la siamo portata a casa 426 diamo cassa ti prego ti prego niente nessun brawler vabbè il gettono per cazzo l'erba grazie bene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima ciao